Quando parliamo di drammi del globalismo dobbiamo anzitutto prendere coscienza del fatto che la globalizzazione non coincide con quella maraviglia con cui sempre viene fatta coincidere. Le categorie che utilizziamo non sono mai categorie neutre ma sono sempre categorie che rispecchiano rapporti di forza determinati nella società. Il sapere e il potere sono sempre intrecciati tra loro e il linguaggio stesso che noi parliamo è un linguaggio che rivela un preciso intreccio tra sapere e potere. Tutte le categorie con cui articoliamo il nostro linguaggio quotidiano sono categorie che se a un primo sguardo si presentano come neutre, come anodine, come prive di relazioni di potere in realtà si analizzate nella loro essenza e nella loro funzione sociopolitica hanno una precisa determinazione in tal senso. La categoria di globalizzazione che è sicuramente una delle categorie più in auge nel nostro periodo storico ha anch'essa e forse anche più di molte altre una sua precisa connotazione sociopolitica. E tutto può essere detto della parola globalizzazione tranne che sia una parola neutra. Anzi quanto più appare neutra tanto più in realtà ha una sua specifica carica sociopolitica. Io ho scritto un testo dedicato a questo argomento che si chiama globalizzazione che prova a rovesciare lo sguardo che usualmente facciamo valere sulla globalizzazione a partire dal nome stesso che attribuisco a questo groviglio di fenomeni che vanno sotto il nome apparentemente neutro di globalizzazione che io ho scelto di appellare invertendo la semantica con il nome di globalizzazione proprio per mostrare come vi sia una precisa relazione di forze non neutra interna a questo paradigma. Per chiarire al meglio che cosa io intenda per globalizzazione o meglio per globalizzazione bisogna anzitutto svolgere una piccola considerazione sui rapporti di forza che abitano il nostro mondo specifico post 1989. Quindi cercherò anzitutto di dire brevemente quali sono i rapporti di forza nella loro fisionomia generale. Proverò su questa base a chiarire come si debba contestualizzare la globalizzazione rispetto a questi rapporti di forza e in ultima analisi proverò a fare un piccolo riferimento anche a un tema nel quale siamo immersi in questa fase che è la nuova riorganizzazione sanitaria della globalizzazione per poi concludere con la famosa e fatidica domanda che fare come reagire rispetto a queste considerazioni e quindi proverò anche a delineare una sorta di possibile terapia per rimanere in tema di ordine pratico. Parto quindi dalla prima considerazione il mondo nel quale ci troviamo oggi a vivere è un mondo che vede essenzialmente contrapposti due grandi blocchi due grandi classi se preferite due grandi gruppi. Le vecchie categorie marxiste ci aiutano solo in parte a fare luce su questo mondo storico di cui siamo abitatori perché sono a un tempo nel vero e nel falso. Sono nel vero nella misura in cui ci ricordano che ogni società è sempre strutturata secondo la faglia di un rapporto tra oppressi e oppressori tra dominati e dominanti sono nel falso nella misura in cui fanno ancora oggi riferimento a una conflittualità che non è più quella del nostro tempo. Le vecchie categorie del marxismo inteso il marxismo in molte delle sue diverse determinazioni concettuali. Il marxismo nel novecento ha avuto diversissime declinazioni ma comunque quasi sempre ha inteso come rapporto di classe dominante quello tra borghesia e proletariato tra coloro i quali producono e coloro i quali vengono sfruttati nell'ambito della produzione. Io sono convinto come ho cercato di mostrare nel libro Globalizzazione e anche in un altro testo intitolato Storia e coscienza del precariato che il rapporto di forza sia sempre anche oggi un rapporto di forza tra dominati e dominanti senza però coincidere più con quello tra borghesia e proletariato. In sostanza e sintetizzando molti aspetti della mia ricerca sviluppati più estesamente in quei lavori io ritengo che oggi la borghesia e il proletariato siano precipitati nell'abisso di una nuova classe sociale che ancora è in fase di costituzione e che in ogni caso corrisponde alla classe dominata nel rapporto di forza contemporaneo. Il ceto medio borghese e le vecchie classi proletarie del proletariato urbano di fabbrica modalità Fiat Mirafiori che nella precedente fase del conflitto erano in antitesi tra loro sono oggi parte grossomodo dell'unica classe che subisce il conflitto di classe. Sicché io le chiamo pur nella loro differenza storica nella loro composizione odierna le chiamo precariato. Una nuova classe in fase di costituzione dicevo che è caratterizzata dalla precarizzazione non soltanto del mondo del lavoro, il contratto intermittente, l'instabilità lavorativa, le partite IVA che sono forse almeno nel caso italiano la cifra del vecchio proletariato di Marx in questa fase. Il proletariato di Marx oggi se noi volessimo individuarne la fisionomia dovremmo dire che probabilmente è da individuarsi nella classe delle partite IVA che sono essenzialmente il proletariato di Marx senza un contratto nazionale condannato quotidianamente a vendere la propria forza lavoro e per di più a vivere nell'illusione di far parte della classe dominante degli imprenditori. Questo è il capolavoro del potere quando ci si illude di far parte della classe dominante quando in realtà si è parte appieno della classe dominata. Basterebbe anche solo considerare il fatto che molte delle partite IVA che oggi si autocertificano come self-employed o imprenditori di se stessi in realtà faticano molto spesso a mettere insieme il pranzo con la cena e debbono quotidianamente compilare un curriculum per cercare di in qualche modo vendere la propria forza lavoro. Ecco ma non è solo la precarizzazione del lavoro a caratterizzare il precariato, è più in generale una precarizzazione dell'intero mondo della vita, è uno sfaldamento completo di quello che con le sintassi del filosofo Hegel chiamerò il mondo dell'eticità. L'eticità nel sistema hegeliano corrispondendo a quelle radici stabili della vita pubblica comunitaria che vanno dalla famiglia allo Stato passando per quella sfera di radici etiche che erano in Hegel la scuola pubblica, la sanità pubblica, il sindacato e tutte quelle attività dello spazio pubblico che oggi stanno effettivamente disgregandosi sotto la pressione del nuovo spirito del liberismo che è la razionalità dei mercati e per i mercati. In sostanza il precariato vive non solo la precarizzazione del mondo lavorativo ma in coerenza con ciò vive sulla propria carne viva la precarizzazione completa del mondo della vita. Il precariato non può accedere alla stabilità sentimentale familiare è costretto a vivere nella precarietà affettiva secondo il modello di quello che in un altro mio libro chiamato il nuovo ordine erotico che rispecchia il nuovo ordine mondiale della deregolamentazione precarizzante applicato però alle relazioni sentimentali. Oggi essenzialmente si è considerati giovani fino a 60 anni grosso modo è sparita la fase della maturità perché fino a 60 anni si vive nella precarietà, precarietà lavorativa, precarietà sentimentale, precarietà in ogni ambito e quindi impossibilità di avere un posto di lavoro stabile che garantisca la stabilità dell'esistenza non si può creare una famiglia, non si può vivere stabilmente, non ci si può costruire una vita stabile. Ma questa precarizzazione riguarda anche l'ambito della politica ad esempio, non si è cittadini pienamente attivi e partecipi della vita pubblica nella misura in cui non si è stabilizzati. L'uomo precarius è per sua natura un uomo soggetto al ricatto, è un uomo che non può esprimere liberamente la propria visione delle cose perché è sempre sotto costante ricatto. Se volete una magnifica insieme tragica rappresentazione di questa nuova classe precarizzata la trovate nell'Expo di Milano del 2015. Il precariato era la classe che effettivamente non soltanto non aveva stabilità lavorativa ma anche lavorava in maniera volontaria. Ricorderete forse questa formula del lavoro volontario che è il grado massimo del plus valore generato dal plus lavoro senza alcun riconoscimento salariale. Ma anche il ceto medio si badi è precipitato in questo abisso, anche il ceto medio ha perso la sua stabilità. Il capitalismo, la belle époque del capitalismo dopo il 1989, ha spazzato via tutte le conquiste etiche e sociali del vecchio ceto medio e l'ha ridotto a un pulviscolo di atomi senza stabilità e costretti quotidianamente a lottare per la sopravvivenza. Quindi la classe dominata è quella che chiamo in sintesi il precariato. Talvolta nella pubblicistica viene anche nominato con una categoria di per sé abbastanza vaga, in verità il popolo. Il popolo che in realtà è a ben vedere la massa nazionale popolare composta dal ceto medio e dalle classi vetero proletarie, oggi ridefinite come precari. Il popolo è l'insieme di coloro i quali vivono del loro lavoro essenzialmente. Il vecchio proletariato urbano di fabbrica è stato disgregato nella atomistica degli individui venditori di forza lavoro. Il ceto medio borghese a sua volta è stato privato della sua stabilità lavorativa, sentimentale, di tutto ciò che aveva conquistato. In sostanza il 1989 non ha garantito libertà e democrazia, come ripete il logoro ritornello dei teorici della fine della storia, della fine capitalistica della storia, ma ha generato invece un'aggressione direttissima sia contro le classi lavoratrici sia contro il ceto medio. Ha beneficio invece della classe dominante che coincide per sua essenza con una cinica casta di banchieri apolidi, di egemonici sostenitori e fautori dell'e-commerce, della finanza speculativa, della delocalizzazione creativa e in sostanza una classe che non vive del proprio lavoro, ma vive invece in maniera parassitaria lucrando sul lavoro altrui. Questa è la differenza specifica rispetto al precedente mondo che vedeva contrapposta la borghesia al proletariato. Borghesia e proletariato nella loro differenza, nella loro antitesi, avevano in comune tutta una serie di valori, tra cui il valore del lavoro. Il lavoro era un valore fondamentale sia per il proletariato sia per la borghesia, ma anche pensate al tema della famiglia. Il tema della famiglia era condiviso tanto dal proletariato, che aveva fin dal nome l'idea della prole, quindi della famiglia, quanto dalla borghesia che vedeva nella stabilità matrimoniale e etica il proprio fondamento. Nel mio libro Il nuovo ordine erotico riportavo anche le immagini, le locandine del vecchio partito comunista italiano del Novecento, che raffigurava ben visibile il padre, la madre e il figlio con scritto votate comunista, difendete la famiglia. La contrapposizione tra borghesia e proletariato non era tra chi difendeva la famiglia e chi invece difendeva altre forme post familiari, ma era tra chi la difendeva meglio e realmente, prima che appunto gli eredi responsabili di Marx e Gramsci abbandonassero il quarto stato per occuparsi invece del terzo sesso, come ho detto nel libro Il nuovo ordine erotico, ma questa è un'altra storia. La nuova classe dominante è una classe che con le parole del Marx, del terzo libro del Capitale, io chiamo l'aristocrazia finanziaria. Si badi non perché siano oi aristoi i migliori, ma perché hanno come cifra quella che è propria dell'aristocrazia storicamente. L'aristocrazia è la classe che non vive del proprio lavoro, ma vive in maniera parassitaria del lavoro altrui, del lavoro della classe borghese, del lavoro delle classi lavoratrici. E in effetti oggi i signori del grande capitale no border vivono esattamente in maniera usurocratica, in maniera bancocratica, sfruttando il lavoro altrui. Vi porto un unico esempio, credo sintomatico, che è la famosa crisi tellurica del 2007, la crisi dei mutui subprime in America, che è una crisi che solo nominalmente è tale, essendo in realtà un'aggressione frontale che la classe speculativa finanziaria ha condotto contro il precariato, contro le classi che vivono del loro lavoro. Utilizzando l'artifizio della truffa bancaria e del raggiro, si sono drenati i danari dal basso verso l'alto, dalle classi lavoratrici verso gli speculatori della finanza. E si è chiamato ciò con il nome neutro di crisi, ma in realtà era un'aggressione diretta che ha comportato peraltro, si è detto per incidence, il più grande dono alle banche mai fatto nell'intera storia dell'umanità. Ecco, in questa contrapposizione fra aristocrazia finanziaria e precariato, possiamo dire che la globalizzazione svolge il ruolo, e dentro nel secondo dei temi che volevo affrontare, di locus naturalis del trionfo dell'aristocrazia finanziaria sulle classi che ho chiamato precarie. La globalizzazione non è qualcosa di neutro o magari anche di naturale in quanto sempre esistito. Questo rientra nello storytelling ideologico della classe dominante. L'ideologia consiste sempre nel tentativo di rendere naturale e quindi eterno ciò che in realtà ha una sua genesi storica particolare e rispecchia l'interesse di una parte e non dell'intero. Sotto questo riguardo la globalizzazione non corrisponde al destino naturale eterno dell'uomo, quasi fossimo sempre vissuti nella globalizzazione, quasi come se Odisseo, Enea e Marco Polo fossero già uomini della globalizzazione. La globalizzazione coincide invece con la dinamica specifica della globalizzazione capitalistica, cioè con lo sviluppo di un mercato che necessita, a modi condizioni ideali di sviluppo del pianeta intero ridotto a un unico mercato per lo scorrimento delle merci e delle persone. L'aveva già ben chiarito Carlo Marx insieme a Federico Engels nel manifesto del Partito Comunista, allorché dicevano che il capitale necessita di essenzialmente trasformare il mondo intero in una interconnessione per lo scambio delle merci. Ogni nuovo spazio deve essere conquistato per essere reso disponibile per la circolazione delle merci. Ecco, sotto questo riguardo nella mia trattazione la globalizzazione non corrisponde a qualcosa di naturale, necessario ed eterno, che è poi un modo per assolvere aprioricamente la globalizzazione giudicandola naturale, quindi degna semplicemente di essere accertata e accettata, né la globalizzazione coincide, secondo un'altra forma di apologetica con cui oggi la si legittima, con qualcosa di entusiasmante e di massimamente elogiabile da parte di tutti i ceti che abitano la globalizzazione. La globalizzazione non corrisponde in sostanza con il viaggio low cost o con le magnifiche sorti progressive della possibilità di spostarsi liberamente per il mondo. Questa è pura ideologia, questa è la narrazione che giova al rapporto di forze della classe dominante. La classe dominante aristocratico-finanziaria non mantiene solo il monopolio dei mezzi della produzione, gestisce anche il monopolio dei mezzi dell'informazione, della produzione culturale, se vogliamo dire così, e utilizza sotto questo riguardo il ceto intellettuale, il nuovo clero che giustifica, glorifica e prega il nuovo Dio della globalizzazione che è il mercato monoteistico del capitale. La nostra è un'epoca che ha smesso di credere in Dio, Dio è morto secondo la profezia nicciana e si è consegnata alla fede nel mercato, che ha assunto esso stesso una disposizione di tipo teologico. Continuamente il nostro lessico, ancora una volta, è pervaso da un discorso squisitamente teologico, ce lo chiede il mercato, i paradisi fiscali, i sacrifici per il mercato e così via. Siamo continuamente in balia di un lessico teologico applicato all'economia e ai mercati, che peraltro sono ora al singolare minacciosi e punitivi come il Dio dell'Antico Testamento, ora al plurale i mercati quando offrono chance rispetto alle quali non si può declinare l'invito. Ecco, in questo contesto possiamo dire che la classe intellettuale svolge un ruolo importantissimo di giustificazione della globalizzazione come luogo naturale per il dominio dei dominanti. Gli intellettuali sono il nuovo clero, così ebbe a definirli il mio maestro Costanzo Preve. Il ritorno del clero, si intitolava un suo libro del 99. La tesi di fondo è che oggi gli intellettuali sono divisi in parti diverse, c'è un clero regolare giornalistico con guinzaglio più corto e poi c'è un clero secolare, accademico, intellettuale con guinzaglio più lungo, ma sempre comunque al servigio della classe dominante. Questa era la tesi espressa da Costanzo Preve nel suo testo aureo del 1999. Dato che gli intellettuali ovviamente non credono in Dio, ma credono sempre e solo nel mercato e sono appunto degli oratores postmoderni che non sono neanche tenuti al celibato, ovviamente, ma anzi vivono nel plus godimento tipico del nuovo ordine erotico di cui dicevo e anzi ridono che ancora sia legato alla vecchia eticità borghese proletaria della famiglia e non quindi al libero godimento appunto postmoderno, gli intellettuali continuamente forniscono quadri di giustificazione della globalizzazione, diffamando ovviamente chiunque osi anche solo sollevare dubbi sulla reale natura in sé neutra e inevitabile o addirittura positiva modalità viaggi low cost della globalizzazione. Chiunque osi dissentire o anche solo sollevare dubbi sulla globalizzazione verrà diffamato, ostracizzato e demonizzato dal suddetto partito clerico intellettuale come populista, come nazionalista, come xenofobo e così via, senza ovviamente che sia in concreto né nazionalista né xenofobo né complottista o populista, sia chiaro. Ma basta anche solo sollevare dubbi sull'ordine delle cose per essere qualificati come eretici secondo il modus operandi proprio del nuovo clero. La classe intellettuale è sotto questo riguardo la parte dominata della classe dominante. Fa parte della classe dominante perché ha un suo capitale culturale specifico che invece la classe dominata non ha. Ma poiché per poter campare deve vendere quel capitale culturale ai dominanti, è dominata all'interno del polo dominante, con una conseguenza peraltro evidentissima. Il capitale culturale elaborato dalla classe degli intellettuali non potrà mai confliggere con l'ordine della classe dominante, che altrimenti essa classe dominante non lo acquisterebbe e resterebbe invenduto con conseguenze pratiche catastrofiche per la classe degli intellettuali ovviamente. Ecco perché molto spesso ci si stupisce del fatto che gli intellettuali sono quasi tutti allineati con l'ordine dei dominanti. In realtà non deve destare stupore, deve destare stupore semmai il fatto che esistano sparuti casi di intellettuali che non seguono le onde del politicamente corretto e dell'eticamente corrotto che garantisce l'ordine dei dominanti. Costanzo Preve diceva in maniera volutamente provocatoria, oggi è la prima epoca storica in cui gli intellettuali sono più stupidi della gente comune. Ma in realtà più che di stupidità intrinseca si tratta semplicemente del fatto che l'intellettuale non può pensare liberamente, perché appunto ha un capitale culturale che deve vendere alla classe dominante. Ne può vivere nella scissione fra la propria coscienza e l'aperta espressione del pensiero, perché la scissione è insopportabile per la coscienza umana. Quindi gli intellettuali si convincono realmente che la globalizzazione sia il migliore dei mondi possibili. Si convincono veramente che il libero mercato deregolamentato e la libera circolazione no border di merci e persone mercificate sia il non plus ultra delle magnifiche sorti e progressive. Ecco, in questo riguardo gli intellettuali svolgono una duplice funzione fondamentale. In primis elaborano i quadri superstrutturali, direbbe Gramsci, per giustificare l'ordine dei dominanti e in secundis operano per fare sì che i dominati non si rivoltino mai, ma accettino le mappe dei dominanti. Questo è il compito degli intellettuali, garantire il dominio dei dominanti, facendo sì che i dominati anziché rivoltarsi lo accettino. Come nella caverna di Platone, i dominati devono battersi sempre e solo in difesa delle proprie catene e mai per spezzarle. Ecco, in questa prospettiva la globalizzazione capitalistica ha come propria specificità di essere, lo dico in estrema sintesi, il luogo naturale per il trionfo dei dominanti. La globalizzazione capitalistica implica nel suo essenziale sviluppo il fatto che il libero mercato favorisca una libera concorrenza globale di cui si giovano sempre e solo i dominanti. È quella che io chiamo la globalizzazione. Se tu sperimenti e vivi la globalizzazione facendo parte della sparuta classe dominante, è del tutto lampante che essa ti apparirà come qualcosa di intrinsecamente positivo. Globalizzazione significherà in concreto poter delocalizzare la produzione ove ti convenga per via del costo contenuto dei salari o delle scarse attenzioni per l'ambiente. Oppure potrai semplicemente spostarti tu stesso con le tue aziende dove sia più conveniente, potrai far circolare le merci in maniera vantaggiosa. Ma se appartieni al polo dei dominati, lo dico in estrema sintesi, la globalizzazione significherà un massacro di classe gestito univocamente dal tuo avversario. Per l'operaio di Fiat Mirafiori, faccio un esempio molto banale, il fatto che ci sia l'apertura cosmopolitica dei mercati, la libera concorrenza, la possibilità di competere, parola magica dell'ordine dei mercati su scala globale, significherà né più né meno non già che i tuoi diritti si trasleranno verso oriente, come ripetono le anime belle del globalismo. Al contrario, significherà che per essere meglio competitivo, supponiamo, collaboratore del Bangladesh, dovrai privarti dei tuoi diritti, frutto di conquiste, di lotte di classe, di piazza, di rivendicazioni salariali, e così potrai essere più competitivo. E ti sentirai per di più sottolineare da parte degli oratori spos moderni di cui sopra, che eri abituato a vivere al di sopra delle tue possibilità. E devi riconvertirti al principio di realtà. Questo è la globalizzazione. Come ha detto Luciano Gallino, il compianto Luciano Gallino, in un suo splendido libro intitolato Il lavoro non è una merce, la globalizzazione significa né più né meno la deliberata scelta di mettere uno sparuto gruppo di lavoratori europei protetti da diritti sociali, conquiste sindacali in competizione con un mare magnum di lavoratori sparsi su tutto il globo terrestre privi di ogni diritto e di ogni conquista salariare, con le conseguenze a cui prima facevo riferimento. Ora, in sintesi estrema, se il lavoratore di Fiat Mirafiori, supponiamo, ha un salario di 10 euro all'ora con la tredicesima e con alcune tutele sindacali conquistate sul campo, perché ovviamente non giungono mai da sole, ma le conquiste si ottengono nella lotta, se deve competere con il lavoratore del Bangladesh che fa il medesimo a 3 euro all'ora senza alcuna tutela, senza alcun ammortizzatore sociale, è chiaro che dovrà anche il lavoratore di Fiat Mirafiori adeguarsi al nuovo ritmo della produzione, è quello che sta già avvenendo. La novità della globalizzazione è che per la prima volta oggi l'Occidente europeo è trattato come una colonia del capitale tra le altre, non più solo l'Africa o l'India, ma l'Europa stessa oggi è trattata come una colonia fra le tante. Avrete visto le nuove condizioni lavorative post 1989 dei fattorini o dei dipendenti delle grandi ditte dell'e-commerce, sono condizioni di cui si potrebbero facilmente fare i cahiers de dolence e mostrare tutte le limitazioni, tutte le condizioni peggiorate. Ecco, ma questa è la globalizzazione di fatto. Prima leva quindi la, come l'ho chiamata, la delocalizzazione, gli inglesi lo chiamano outsourcing, produrre dove conviene. Se in Italia supponiamo, grazie alle conquiste salariali, la durata della giornata lavorativa è limitata, vi è anche la maternità per le donne addirittura, ci sono anche la tredicesima dei diritti conquistati e grazie alla globalizzazione tu ti sposti a produrre in Bangladesh e hai aggirato l'ostacolo e di più, per la legge della competitività, costringi anche l'Occidente ad adeguarsi a quelle nuove no. L'altra grande tendenza della globalizzazione capitalistica sul piano lavorativo si chiama immigrazione di massa. L'immigrazione di massa che è un tema molto scivoloso di questi tempi, che sempre dà luogo alle due tifoserie di chi vuole più immigrazione, di chi invece vuole opporsi in ogni modo all'immigrazione. Rispetto a queste due tifoserie occorre invece pensare con la propria testa e ragionare nell'ambito di questo rapporto di classe. Ora è evidente che il capitale e la sua classe, per far valere la legge del capitale, che poi una, trovare sempre qualcuno disposto a produrre il medesimo a un prezzo più basso, può o spostare la produzione in Bangladesh e quindi abbassare i costi, oppure attirare, io dico apertamente, deportare masse di lavoratori da altre regioni del mondo in cui le condizioni lavorative sono pessime, deportarli in Occidente e in questo modo a avere braccia a basso costo, b per la stessa logica della competitività costringere anche la manodopera locale ad adeguarsi e c creare conflitti orizzontali in seno alla stessa classe lavoratrice, perché ora il conflitto non sarà più tra sfruttati e sfruttatori, ma sarà interno e in orizzontale alla classe degli sfruttati che si divideranno tra bianchi e neri, tra autoctoni e migranti e così via, e ciò sarà il capolavoro del capitale. Ecco, quindi l'immigrazione di massa e la delocalizzazione sono due fondamenti del capitale. Naturalmente bisognerebbe sotto questo riguardo, per far valere una prospettiva critica e antagonistica, imporre una limitazione della deregolamentazione del lavoro e della traslazione della produzione all'estero, detta outsourcing. Bisognerebbe opporsi non al singolo immigrato, ma a questa pratica di deportazione dei popoli evidentemente. Io lo dico sempre proprio per evitare equivoci, il nemico non è chi fugge, ma è chi costringe i popoli a fuggire. Il nemico non è il disperato, ma è chi getta nella disperazione i popoli. Il nemico in sostanza è sempre il nemico di classe di cui dicevamo, chi per inciso distrugge le terre dell'Africa colonizzandole e sradicando i popoli dalla loro storia e costringendoli alla fuga. Ecco, in questo scenario la globalizzazione si caratterizza per essere il terreno ideale del conflitto. Io la chiamo appunto globalizzazione per alludere al fatto che sta producendo un'immensa batteria di servi della gleba, o meglio della globalizzazione. Questo stiamo diventando. Dopo il 1989 le condizioni di vita e del lavoro stanno rapidamente peggiorando e non migliorando, con buona pace, di chi con ebete euforia già all'indomani della data epocale del 1989 celebrava la vittoria della democrazia. Spiace doverlo ricordare, libero mercato non fa rima con democrazia, fa rima con disuguaglianza e con globalizzazione, per riprendere questo termine. E quindi questo sta avvenendo su scala planetaria, con un dramma anche evidente sul piano non solo lavorativo a cui ho fatto riferimento, non solo sul piano delle condizioni di vita. La precarizzazione delle esistenze è frutto del nuovo capitalismo flessibile che appunto non è più il vecchio capitalismo fordista di fabbrica, stabile fino alla monotonia alienante. Questo è un capitalismo flessibile, on demand, che si muove senza posa, che procede precarizzando le esistenze alla maniera non più fordista ma toyotista in questo caso. Il nuovo modello toyotista della produzione snella, l'azienda flessibile, l'azienda che procede su chiamata, con ovviamente tutto il paradosso che riguarda il lavoro. Il lavoro è in qualche modo inseparabile dalla viva personalità, dalla viva corporeità di chi produce. In sostanza se si produce a singhiozzo, se si produce on demand, chi produce deve però vivere stabilmente e non può vivere a chiamata evidentemente. È un curioso paradosso del nostro tempo, trattare come merce, non solo la merce ma anche le persone che vengono chiamate e trattate come merce fra le altre. Ma è superfluo ricordare che una persona non è una merce, una persona ha sogni, desideri, bisogni e altra cosa strutturalmente dalla merce. Anche l'ovvio vuole la sua parte in questo caso, bisogna ripetere l'ovvio in un'epoca in cui sembra non ovvio appunto. In questa prospettiva la globalizzazione segna il trionfo di classe dell'aristocrazia finanziaria, il massacro dei ceti dominati e tuttavia vengo a un altro punto che mi permette di svolgere alcune considerazioni sull'odierna svolta sanitaria della globalizzazione. Sembrava già da qualche tempo che cominciassero a prendere coscienza di sé alcuni movimenti di contestazione della globalizzazione, anzi della globalizzazione. Dal 1989 fino a tempi recenti il capitale godeva di buona salute a livello ideologico, anzi la domanda che ci ponevamo con insistenza era perché coloro i quali tutto l'interesse avrebbero a contestare il capitale invece lo celebrano, lo difendono, lo vivono come un sogno anche al netto delle sciagure che quotidianamente produce. Perché i cavernicoli di Platone amano il buio della spelonca? Era la vecchia domanda della filosofia politica. Sembra che in effetti negli ultimi cinque anni vorrei dire, forse anche qualcosa in più, iniziassero a prendere forma delle forme, sia pure in stato unascendi, di contestazione dell'ordine del global capitalismo. Erano non certo forme analoghe a quello del partito rivoluzionario di marxiana memoria, erano simili più a quelle che il compianto Giulietto Chiesa chiamava i guaiti dei popoli oppressi. Giulietto Chiesa usava questa espressione per alludere al fatto che mancava certo un'organizzazione partitica e infatti oggi non c'è un partito come poteva essere il partito rivoluzionario a cui pensava Marx o Gramsci dopo Marx. Non ci sono partiti anticapitalistici, sono partiti che in qualche modo alimentano ugualmente dietro la finta opposizione l'ordine delle cose, è quella che io chiamo l'alternanza senza alternative, una sorta di gara tra partiti che si contendono il governo per andare a fare le riforme che verranno imposte di volta in volta da Bruxelles, da Washington, dal Fondo Monetario Internazionale. Mancano partiti realmente contestativi a livello di grande rappresentanza dell'ordine della globalizzazione e tuttavia cominciavano a nascere dal basso rigorosamente moti non organizzati, non coerentizzati di scontento verso la globalizzazione a livello europeo ma non solo europeo. Occupai Wall Street pur nella sua inefficacia, bisogna ammetterlo, aveva se non altro capito che il nemico non era il fascismo, il comunismo o tutti questi cadaveri concettuali che vengono oggi evocati da giovani invecchiati troppo presto. Il nemico evidentemente avevano capito che era qualcosa di nuovo, era il sistema, il partito di Wall Street, il sistema della finanza, il sistema della classe aristocratico finanziaria. Ma pensate anche a tanti elementi che abbiamo colto in questi anni di contestazione dell'ordine della globalizzazione, che ovviamente la classe dominante per il tramite del clero intellettuale e del circo mediatico di completamento ha subito stigmatizzato come populismi, sovranismi e rinascenza dell'eterno fascismo e dell'eterno stalinismo in agguato, erano movimenti che mettevano in discussione l'ordine della globalizzazione. Pensate anche solo al no con cui il popolo greco nel 2015 ha espresso il proprio sfavore rispetto alla austerità targata a Bruxelles. Quello che colpisce è che di fronte alla risposta di un intero popolo per la classe tecnocratico repressiva di Bruxelles era carta straccia il referendum. Pensate anche a un altro interessante moto contestativo che è stato il Brexit. Il Brexit è stato un modo con cui l'Inghilterra si è opposta rispetto all'Unione Europea identificata con un leviatano tecnocratico repressivo e ha detto chiaramente di no. Le classi lavoratrici inglesi hanno votato in massa no, hanno votato sì ovviamente nella city londinese i banchieri, hanno votato sì i giovani della generazione Erasmus, quelli che quando si votò il Brexit piagnucolavano perché non avrebbero più potuto far la movida a Barcellona o a Berlino. Ma le classi lavoratrici votarono fermamente, compattamente no, come anche le classi rurali delle campagne inglesi. Penso anche per portare in onore il nostro paese al referendum costituzionale del 2016, quando gli italiani dissero di no a una riforma costituzionale che era voluta direttamente dai grandi gruppi finanziari, JP Morgan, per il tramite dei loro maggiordomi locali in politica. Ecco, tutti questi movimenti segnalavano un nascente scontento verso la globalizzazione. L'ultimo e forse anche più interessante dei quali, perché meglio organizzato da un certo punto di vista, era quello delle giubbe gialle in Francia, i gilets jaunes, le giubbe gialle galliche, che è interessante come movimento, quelle delle giubbe gialle, che è un movimento che intanto utilizza una divisa che è quella fornita dal capitalismo stesso, la giubba gialla che trovate sulle macchine di conio capitalistico, utilizzano quella divisa per identificarsi e contestare il capitalismo. Le giubbe gialle chiedevano più sovranità nazionale contro la globalizzazione, chiedevano più diritti sociali e meno mercato, chiedevano più tutela contro le ingerenze della globalizzazione e della competitività e, come tutta risposta, hanno ottenuto ovviamente una repressione nel sangue dell'Occidente capitalistico. In qualche misura il capitale globale stava iniziando a perdere consenso. Io, che amo sempre citare Gramsci, ricordo uno splendido passaggio nei quaderni del carcere in cui Gramsci spiega che l'egemonia, che è dominio più consenso, se preferite, è dominio col consenso dei dominati, l'egemonia ha come prerogativa il fatto che quando viene meno e resta solo il dominio senza il consenso, ha come conseguenza molto pragmaticamente il fatto che la classe dominante, per mantenere il dominio in assenza del consenso, deve dare una svolta autoritaria. Gramsci pensava a quello che accadde in Italia nel suo tempo, ovviamente, l'epoca del fascismo, ma oggi, mutatis mutandis, credo che l'egemonia del capitale stesse venendo meno già da tempo e questa svolta autoritaria che stiamo vivendo in questo periodo su scala europea, su scala occidentale e non solo occidentale, segni una riplasmazione autoritaria del rapporto di forza. Quello che stiamo vivendo, quello che ovviamente interessa non è tanto l'esistenza o no, la virulenza o no, la mortalità o no del virus, questo è un tema per virologi, epidemiologi e infettivologi. Quello che interessa è la questione politica, ovviamente, l'uso politico che viene fatto di un'emergenza. Questo è l'aspetto interessante dal nostro punto di vista. In estrema sintesi, lo dico con una formula, possiamo rinunziare alle libertà e ai diritti e ai parlamenti in nome di una pandemia? Questa è la domanda squisitamente filosofico-politica, non c'entra nulla con la medicina, sia chiaro. Si può davvero rinunziare al principio della libertà, al principio della democrazia in nome di una pandemia? Naturalmente l'ordine del discorso è tale per cui vi dice che c'è un'emergenza e quindi le misure emergenziali hanno una loro vigenza nello spazio temporale dell'emergenza, finita la quale si torna alla normalità. E' quello che diceva, tra l'altro, molto linearmente Gustavo Zacrebeschi in un'intervista uscita il primo maggio sul Fatto Quotidiano. Certo, ma cosa capita se l'emergenza diviene essa stessa infinita nel tempo? Cosa avviene se l'emergenza, lungi dall'esaurirsi nel breve spazio di un'emergenza? Come suggerisce il concetto stesso, l'emergenza è limitata nel tempo. È un periodo racchiuso tra due estremi vicini tra loro. Ma cosa avviene se l'emergenza si protrae addirittura, come diceva oggi Bill Gates, fino al 2022? O se addirittura, come dice l'OMS, arriveranno nuove pandemie? Allora vuol dire che le misure dell'emergenza, lungi dall'essere legate solo all'emergenza, tendono a farsi nuova normalità, come già dice il lessico comune. Questo è il punto su cui vale la pena ragionare. Questo è il punto interessante, credo, sul quale vale la pena ragionare. Cioè sul fatto che il paradigma dell'emergenza viene puntualmente utilizzato come strumento per dare una svolta autoritaria ai rapporti di forza. È quella che Naomi Klein chiamava la shock economy, è quella che con una formula efficacissima il sacerdote del neoliberismo Milton Friedman diceva in questi termini. Ciò che nella normalità è politicamente inaccettabile diventa nell'emergenza politicamente inevitabile. Questo è il punto. Se vi avessero detto ancora, supponiamo un anno fa che dovete stare chiusi in casa per tre mesi o che non potevate fare assemblee di piazza, probabilmente non l'avreste accettato così di buon grado. Ma se c'è l'emergenza allora si è disposti a barattare libertà per sicurezza. Il paradigma securitario è già collaudato con l'emergenza terroristica. Se c'è l'emergenza allora per avere sicurezza dobbiamo essere disposti a rinunziare alla libertà. Perché al tempo del terrorismo ciascuno di voi poteva essere un terrorista islamico pronto a farsi saltare in aria e quindi bisognava prendere le distanze, mettere in sicurezza, violare la privacy di ciascuno di voi perché ciascuno di voi era potenzialmente un terrorista. Ma oggi ciascuno di voi potenzialmente non è più un terrorista ma è un asintomatico, che è la variante terapeutica del terrorista. E dato che ciascuno di voi, me compreso ovviamente, è potenzialmente un asintomatico, cioè un contagiato e contagiatore, allora bisogna prendere le precauzioni e quindi trattare ciascuno come potenzialmente nocivo e far valere il nuovo principio ordinativo della società del nuovo capitalismo globale terapeutico che come ha detto efficacemente Giorgio Agamben è il principio del distanziamento sociale. Distanziamento sociale si va di non distanziamento fisico, che pure c'è ovviamente, dobbiamo stare fisicamente distanti a un metro di distanza, ma come dice la parola stessa, il distanziamento deve essere sociale, sociale. E quello che domanda Agamben non mi pare ozioso, può ancora esistere una società basata sul distanziamento sociale? La società implica una relazione fra gli esseri umani, una relazione che non si basi necessariamente su baci, abbracci e strette di mano, che pure sono state vietate per un certo periodo. Ancora ieri l'OMS ha chiarito che nemmeno più il gomito è possibile dare, ulteriormente viene accentuato il distanziamento, viene ulteriormente accentuato, ma oltre a questo una società esiste nelle relazioni sociali che la strutturano. La società del distanziamento sociale è una società in cui non è possibile, lo dico in maniera telegrafica ma spero esplicativa, fare rivoluzioni e contestazioni. La famosa chiusa del manifesto del partito comunista, proletari di tutti i paesi unitevi, proletari di tutti i paesi distanziatevi, direbbe oggi l'OMS, no? È impossibile una rivoluzione ma anche solo una contestazione con il distanziamento sociale. Il capitale da subito ha come problema fondamentale quello di dissolvere tutte le comunità preesistenti, religiose, etiche, solidali e di dissolvere quelle che si creano per contestare il capitale. Il capitale deve distanziare socialmente da subito e rendere possibile un'unica relazione sociale, quella mercantile, effimera, basata sul dout des, che è effimera per sua natura, no? Come il birraio, il fornaio e il macellaio di cui scriveva Adamo Smith in La ricchezza delle Nazioni, che scambiano la loro merce per egoistico interesse personale e poi si ritraggono in se stessi nella loro chiusa individualità atomica. Si relazionano solo per lo scambio delle merci. È una società basata sull'insocievole socievolezza, diremmo con Kant, o sul sistema del bisogno, diceva Hegel, del bisogno. È quello che sta avvenendo oggi. Nei tre mesi del lockdown voi potevate stringere relazioni puramente commerciali, effimere, ma non potevate aggregarvi in luoghi pubblici, non potevate nemmeno accedere ai luoghi di culto, alle piazze, ai grandi luoghi della socialità in cui si è strutturata la politica e la socialità dell'Occidente. Ecco, da questo punto di vista non deve sfuggire un aspetto. Chiaro, tutte queste norme si nobilitano sempre come norme sanitarie, ma sono sempre puntualmente anche norme politiche autoritarie, non sfuggirà, perché il distanziamento sociale è una norma squisitamente autoritaria e ancor più lo è il divieto di assembramento, se considerate il fatto che non vi è regime autoritario nel Novecento che non abbia introdotto il divieto di assembramento. Forse suonerà poco gradevole per gli odierni fautori dell'antifascismo in assenza di fascismo che sono al governo ricordare che furono le leggi fascistissime a introdurre il divieto di assembramento in Italia. All'epoca, si diceva che bisognava evitare l'assembramento perché l'assembramento poteva generare l'importuna passione politica di rovesciare il regime. Oggi invece vietano l'assembramento dicendo che lo fanno per il vostro bene, per proteggervi. È il primo regime protettivo questo, che se vi impedisce di stare accanto all'altro lo fa per proteggervi. Se vi impedisce di contestare, di fare assemblee sindacali, di scendere in piazza, lo fa per il vostro bene. È un paradosso vivente questo, no? È una nuova socialità che vi chiede di amare il prossimo escludendolo, che vi chiede di essere civici rinunziando alla società, che vi chiede di battervi per la libertà futura rinunziando a quella presente. Ma Dio sa nel Novecento quante forme totalitarie hanno promesso grandi forme di libertà a venire e intanto hanno sottratto quella libertà per quanto imperfetta che esisteva al presente. Bisogna sempre diffidare di chi ci chiede di rinunziare alla libertà che abbiamo promettendocene una maggiore domani. Quello che stupisce naturalmente è l'incapacità dei più ma anche degli intellettuali, o malafede diremmo alla luce di quello che dicevamo prima, nel non capire come queste misure che appaiono giustificate nell'immediatezza dell'emergenza dureranno anche dopo la fine dell'emergenza. Tutte le misure dell'emergenza hanno il brutto vizio di protrarsi anche dopo l'emergenza, di diventare una nuova normalità. Vengo allora rapidamente alla questione del che fare. Sul piano del nuovo capitalismo terapeutico come svolta autoritaria dico subito in sintonia con Giorgio Agamben che occorre dissentire massimamente da una società basata sul distanziamento sociale. Occorre assolutamente contestare questa nuova forma di società non sociale basata sul distanziamento sociale che reintroduce di peso in occidente forme che appartenevano alla prima stagione del capitalismo, quando il capitalismo doveva impedire le assemblee dei lavoratori ad esempio, doveva impedire le contestazioni di piazza. siamo tornati in quella fase lì, mutatis mutandis. La nuova società è una società disumanizzata. Il discorso del medico che oggi si impone come una sorta di discorso taumaturgico, di discorso sciamanico quasi, e lo fa nella misura in cui varca i confini che gli competono, che sono quelli della medicina. Quando parla di medicina il medico è titolato ovviamente a parlare, ci manca che rebbe. Ma cosa capita quando il discorso medico diventa il discorso totale della società su se stessa? Questa è la domanda da porre. Quando la politica stessa assume il linguaggio della medicina, per intenderci, e propone il cura Italia ad esempio, o propone al governo i virologi addirittura, come sta anche accadendo nelle lezioni che ci accingiamo a vedere. Cosa accade? Accade che in qualche misura il discorso del medico diventa discorso unico della società. Ma il discorso del medico, la cui legittimità nel campo specifico non mi sogno di mettere in discussione, il discorso del medico ha un'ingenuità metafisica di fondo che abbiamo tutti sperimentato in quei tre mesi di lockdown. Il discorso del medico chiama vita la semplice sopravvivenza di un organismo, come se appunto vivere fosse stare chiusi in casa per tre mesi da soli, respirando e svolgendo le funzioni vitali fondamentali. Ma quella è una concezione ingenua della vita. La vita è questo, ma anche le relazioni sociali, simboliche, culturali, senza le quali non viviamo propriamente. La cultura dei filosofi greci è infinitamente superiore a quella degli odierni medici. Per i greci l'uomo è un animale sociale, politico, comunitario, che esiste nella polis e non nel lockdown. Questa è la domanda. Ecco, quindi bisogna contestare questo nuovo tipo di società, ben sapendo che non rientrerà a emergenza finita. Vuoi perché l'emergenza non finirà? Vuoi perché quando l'emergenza finirà queste norme che apparivano emergenziali si saranno già conficcate nell'immaginario. Nuove generazioni già nate addirittura con questo scenario. E saremo abituati ormai, ci sembrerà normale salutarci a distanza, abolire la stretta di mano, come disse il medico Fauci. Ci parrà normale. Troveremo normale e fisiologico una cosa solo perché accade sempre. Io cito sempre la scena dell'Amleto, in cui Amleto vede il becchino che sta seppellendo i morti e intanto fischietta. Amleto è stupito e gli viene risposto che l'abitudine rende indifferenti. L'abitudine rende indifferenti. Ci troveremo tutti in una condizione di normalità. Ciò che oggi a molti fa problema e pare molti lo trovano normale perché in qualche modo il paradigma securitario aiuta in questo senso molti a trovare normale il non normale semplicemente perché gli viene proposta come via di salvezza. L'Occidente non crede più in niente, non crede più in Dio, non crede più nell'idealità, nei valori, crede solo nella nuda vita e quindi fa di tutto per mantenerla. La morte è ciò in cui l'Occidente ancora crede a paura della morte e deve in ogni modo mettersi al sicuro, anche perché la morte è come dire che per un greco faceva parte della vita. Per un greco la morte era parte della vita. Siamo animali finiti. I greci chiamavano gli uomini o i brotoi, i mortali. Gli uomini sono coloro i quali nascono sapendo di dover morire. E proprio anche nella filosofia di Heidegger noi possiamo dare un senso alla nostra esistenza perché siamo finiti e quindi solo in quel segmento temporale riusciamo ad attribuire un senso. Nei poemi omerici perché gli dei sono tanto invidiosi dei mortali e ne scompigliano continuamente la vita? Perché sono mortali. Gli dei che non sono mortali non hanno un senso dell'esistenza e quindi si vendicano sui mortali. Ecco, l'Occidente che non crede più in nulla ha paura invece di morire perché la morte è la contraddizione assoluta dal punto di vista della religione del capitale, perché interrompe per sempre il ciclo del consumo e della produzione di merci. L'Occidente mira oggi alla illimitatezza in ogni ambito della produzione, del consumo e anche dell'esistenza, il mito della vita eterna, dell'allungare l'esistenza in ogni modo. E quindi in nome della possibilità di sopravvivere rinunzi a tutto. Ma noi sappiamo, e ce l'ha insegnato memorabilmente Hegel, che colui che rinunzia alla libertà per far salva la vita va sotto il nome di servo. È il servo quello che rinuncia alla libertà per fare salva la vita. Per questo dobbiamo tener fermo un principio irrinunciabile, che non c'è pandemia che valga a rinunziare alla libertà e la democrazia. Questo è il punto fondamentale. Vengo all'ultima questione più generale, alla globalizzazione. È chiaro che la globalizzazione per essere contestata implica il fatto che si valorizzi tutto ciò che possa resisterle. Sul piano culturale abbiamo bisogno di identità forti, culturali, memori delle proprie radici, della propria provenienza e quindi non disposte a farsi occupare dalla forma merce, dal nulla che l'è proprio. Sul piano politico occorre, ed è questa la proposta che svolgevo nel mio libro globalizzazione, occorre elaborare una forma di sovranismo populista internazionalista, dove per sovranismo intendo il principio della sovranità nazionale come base della democrazia e dei diritti sociali. Nella modernità non esiste democrazia che non sia incapsulata nello stato sovrano nazionale. Tutte le democrazie esistono nello stato sovrano nazionale come nella Grecia classica esistette la democrazia sempre e solo nella polis. Ogni qualvolta oggi si supera lo stato nazionale si perdono quote di democrazia, che sia l'Unione Europea, che siano i trattati transnazionali, si perdono quote di sovranità. Occorre recuperare il principio della sovranità che è la base della democrazia e del socialismo. Il socialismo implica la possibilità di governare l'economia, ma per governare l'economia ci vuole uno stato che possa intervenire nell'economia. Se togli lo stato e lasci solo l'economia globale, togli anche la possibilità di governare l'economia. Ecco perché nel libro io uso questa formula. Lo stato sovrano nazionale può e dal mio punto di vista deve essere democratico, l'economia globale non lo sarà strutturalmente mai. Questo è il punto che ritengo importante sottolineare. Populismo cosa intendo? Non ovviamente ciò che intende il discorso pubblico dominante, che diffama come populismo ogni rinascenza di interessi e di rivendicazioni da parte del popolo. Il popolo che anziché chiedere più globalizzazione, più mercato, più liberalizzazione, chiede più diritti sociali, più controllo dell'economia e così via. Per populismo intendo esattamente la rinascita della classe oppressa contro la classe dominante, la rinascita dell'interesse dei ceti medi e delle classi lavoratrici contro quelli del capitale dominante. Occorre quindi riunire fra loro sovranità e popolo per dar luogo a un momento sovranista, l'idea della sovranità nazionale come via alla democrazia, al socialismo e populismo, l'idea del popolo che si autodetermina. La Costituzione italiana è da questo punto di vista il non plus ultra, credo, a cui fare riferimento. Il primo articolo della Costituzione italiana dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione e mette a tema esattamente cosa? La democrazia come sovranità del popolo nello Stato. Ma la sovranità del popolo nello Stato implica la sovranità dello Stato. Per questo larga parte dell'ordine globalista, anzi globalista, mira a disarticolare la sovranità degli Stati per poter così annullare insieme la sovranità popolare negli Stati e quindi la democrazia. Ecco perché occorre unire tra loro questi due momenti fondamentali, sovranità e popolo contro il ritmo della globalizzazione. Bisogna rimettere al centro queste categorie per reagire alla globalizzazione. Parlo poi di internazionalismo da non confondere con il globalismo, con il cosmopolitismo. Oggi larga parte delle sinistre hanno abbandonato l'internazionalismo per convertirsi al cosmopolitismo, che è il movimento di globalizzazione mercatistica. L'internazionalismo implica un rapporto solidale tra nazioni e quindi prevede l'esistenza delle nazioni. Internaziones, internazionalismo. Cosa intendo con ciò? Un rapporto fra Stati sovrani, nazionali, democratici, che si relazionino fra loro in maniera solidale contro quella guerra di tutti contro tutti che è la globalizzazione mercatistica. Questo a mio giudizio occorre oggi fare per reagire e prima che sia troppo tardi rispetto alla globalizzazione avanzata. Lo dirò con una chiusa classica, dato che ritengo che occorra ripartire dai classici per reagire alla globalizzazione sia sul piano politico sia sul piano culturale. Dobbiamo, come mi piace dire, difendere chi siamo contro lo svuotamento di identità che la globalizzazione sta realizzando. E difendere chi siamo significa difendere anzitutto la nostra cultura, il nostro radicamento storico che proviene dai greci e dai romani. Ecco, lo dico allora con una formula classica. Nel 388 a.C. andò in scena ad Atene il Pluto di Aristofane. Aristofane è commediografo, quindi una commedia, desta divertimento leggerla, ma in sostanza di cosa parla questa commedia? Parla di come nella città di Atene Pluto, il dio della ricchezza, da cui la plutocrazia, il potere della ricchezza, riesce a convincere i cittadini del fatto che tutti potranno diventare ricchi se si affideranno a questa divinità. Morale riesce a convincervi, si chiude l'opera con una processione solenne che porta Pluto nell'acropoli, lo insidia nell'abside di Atene e Atene viene scalzata dal suo posto. Atene che è la dea della democrazia atenese, la dea che rappresenta la politica democratica. Cosa avviene? Cioè che la città imbalia dell'arricchimento illimitato e perde in questo modo la democrazia. È un rovesciamento divertente in Aristofane ma tragico nei nostri giorni. Io credo che dobbiamo batterci allora, questo è il cuore del messaggio che vorrei dare in conclusione, per rimettere Atene nel suo posto e per scacciare Pluto dal posto che ha impunemente occupato. Quindi ripartendo dalla nostra cultura classica forse abbiamo gli strumenti per reagire a questo processo macabro e distruttivo che è la globalizzazione. Grazie.